La prima volta in Naples, credo. Siamo qui per visitare Naples, il museo dell'archeologia, per una settimana. In Italia, Roma e Naples. Che pensate di questa città? Che pensate di Naples? È meraviglioso, è come un museo all'interno, meraviglioso. Che pensate di Naples? È molto bellissimo, ma credo che le persone sono molto... Stranghe. Non, non, non. Le persone sono molto... E' molto bellissima, buona. Ma il giro non è bene oggi. Siamo molto scopri. Le ragazze in Italia sono molto bellissime. E' perfetto ragazze. E' perfetto ragazze. E' perfetto ragazze. Che pensate di questo tipo di scuola? Perché stiamo facendo una intervista perché non piace questa scuola. Che pensate di questo scuola? È molto buona. È molto buona. Perché è molto buona. È buona. Ma dove sei? In cui città? In cui città? Paris. Parisi. È come piccà. È buona. È buona. È buona, come si? Parisi, è buona la stessa. È buona, la stessa. Città? Un'itale. Un'itale. Non abbiamo Torre Aiffel. Non abbiamo Torre Aiffel. È buona, ma chiama. Ma secondo te, qual'è la differenza tra Paris e Naples? La differenza è molto, molto, molto... C'è disordnante... C'è disordnante... Non... Non... È molto serio. Non, non, non... In Paris, la gente non è la stessa. Sì, ma magari vogliamo dire che non rispettiamo le regole. Qui? Ma qui? Qui? Ah, da qui? Sì, è vero! È buon... Non, però è molto belle! Know che puoi esseremosissare questa stessa. until